è una strage inaccettabile, quindi stiamo lavorando nel vostro interesse per portare l'educazione stradale vera sui banchi di scuola, magari regalando qualche punto in più sulla patente per chi frequenta veri corsi di vera educazione stradale e poi bisogna portare un po' di regole nelle città anche sulle due ruote, penso alle bici che vanno protette, vanno tutelate perché questa strategia di ciclisti è inaccettabile, però chi usa il monopattino deve anche usare la testa, quindi caschi sui monopattini, monopattini che non possono superare i 20 all'ora, non possono andare in superstrada, in tangenziale, frecce, targa, immatricolazione, quindi un po' di buonsenso, un po' di rispetto delle regole, però perché siamo qua questo venerdì pomeriggio perché ci abbiamo messo due mesetti di tempo, tanti di voi ce l'avevano chiesto, norme più severe per chi maltratta, abbandona o uccide gli animali, perché mi sto occupando di esseri umani a due gambe che viaggiano, che studiano, che lavorano, quindi ferrovie più sicure, stazioni più sicure, strade più sicure, nuovi ponti sul Po o fra Messina e Reggio, nuove autostrade, penso alla Roma Latina, penso alla Valtrompia, penso alla Vigevano Malpensa, però bisogna pensare anche agli esseri umani che di gambe ne hanno più di due e la cronaca anche di questi ultimi giorni è incredibile, io mi domando come si faccia ad essere così cattivi, così violenti e così dementi. Solo gli ultimi tre casi, uno che arriva dalla Puglia cane strangolato con un fil di ferro, uno che arriva dalla Liguria da Spezia, esce da scuola, uccide una tartaruga e si pubblica il video su Whatsapp, malato di mente, e poi maltrattamenti di cani a Rimini, a Milano, a Roma, a Napoli, a Torino, a Palermo, basta, basta, quindi insieme ad alcune associazioni che proteggono, amano, tutelano e difendono gli animali abbiamo messo giù come lega una proposta di legge che prevede sanzioni più severe, entro nel merito, per chi maltratta o uccide gli animali la pena sale da due a sei anni di carcere, basta, maltratti, abbandoni, picchi, uccidi un essere che non si può difendere, maledetto vigliacco, ne paghi le conseguenze, quindi la pena aumenta da due a sei anni di carcere, di più pubblichi sui social la tua malattia mentale, la tua violenza dannata e gratuita, aumento della metà la pena, chi maltratta o uccide un animale e diffonde i contenuti della sua demenza e della sua violenza sui social avrà un aumento di pena della metà della pena prevista, quindi se ti becchi cinque anni, ti becchi due anni e mezzo in più, se le tue gesta da malato di mente, da cretino, le pubblichi sui social, altro paio di maniche il reato di strage, perché c'è gente che ovviamente non si accontenta di ferire, di uccidere, di prendere a calci, di attaccare con pistole, ma addirittura in serie, bocconi avvelenati, veleno, bocconi coi chiodi, ebbene qua la reclusione in caso di uccisione di più esseri viventi, e mi stava venendo a dire esseri umani, perché ci sono alcuni animali, ci sono alcuni cani, alcuni gatti, alcuni cosiddetti animali che sono molto più umani di alcuni cosiddetti esseri umani, ebbene la pena aumenta anche da questo punto di vista. In molti ce l'avete chiesto, ci siamo arrivati perché ovviamente noi ci preoccupiamo di aiutare donne, uomini, ragazze, ragazzi, stipendi, mutui, pensioni, bollette, però bisogna pensare anche a difendere chi non si può difendere, a dar voce a chi non ha voce, a offrire diritti a chi non ha diritti. Quindi depositiamo questa proposta di legge che spero che tutto il Parlamento ci aiuti a trasformare in realtà, perché il creato, per chi crede in Dio, ma anche per chi non crede in Dio, va rispettato, non dico amato, se uno non ama gli animali, amen, però va rispettato, va tutelato, va difeso e va protetto anche a nome di milioni di donne, uomini, di giovani e anziani che convivono quotidianamente, che ricevono affetto, amore, compagnia, coccole da quei cani, da quei gatti, da quegli animali che qualcuno invece in maniera vigliacca, maltratta, abbandona, se vizia o uccide. Quindi ci tenevo perché a me piace arrivare in diretta con le cose fatte, così come in diretta ci arriviamo con tutti i cantieri aperti, abbiamo ieri presentato in stazione Termini a Roma e riguarda stazione centrale anche a Milano l'assunzione di mille vigilantes per garantire di viaggiare sicuri sui treni e nelle stazioni. Quindi a me piace il canale diretto, quindi ringraziare voi 841.600 su TikTok, tanta roba, mi prendevano in giro e vi prendevano in giro qualche anno fa, ma un politico importante, un ministro, il segretario della Lega, il vice presidente del Consiglio, cosa fa? Perde tempo con i ragazzini su TikTok? Innanzitutto non perdo tempo ma comunico quello che è il mio lavoro che voi mi pagate. Secondo il popolo della rete, dei social di Instagram, di Facebook, di Twitter e di TikTok non è un popolo di minus, di decerebrati che vivono solo di televisione, di prodotti commerciali, di slogan, di pubblicità. Ecco, io sono contento di recuperare in rete spesso alcuni suggerimenti, alcune proposte, alcuni suggerimenti, alcune critiche, se servono, costruttive. Ecco, non vedo anche qua, e io vi ringrazio tanti messaggi, ah, nota di cronaca, ho rotto gli occhiali. Quindi leggere i messaggini per me è un pochino più complicato. Ho un occhialino da distanza, non è il massimo della vita e non è il massimo della bellezza, però per ringraziare qualcuno di voi, magari in questa manciata di minuti uso questi occhiali da distanza un po' da vecchietti, eh? Ragazzi, però sono 50, fra un mese ne faccio 50. Quindi alzi la mano, chi della classe 1973 ci vede perfettamente da vicino e da lontano. Dai, siamo seri. Quindi vi ringrazio perché, ripeto, siamo partiti da nulla e siamo ormai 841.600 solo su TikTok, più di 2 milioni su Instagram, 5 milioni su Facebook, quindi 8 milioni di persone in Italia e nel resto del mondo che partecipano, che suggeriscono, che spargono la voce, che fanno proposte, perché questa proposta di legge in difesa degli animali maltrattati in diversi casi è arrivata da voi. Quindi sono io, Ministro della Repubblica, che vi dico grazie perché il mio lavoro ovviamente è incontrare i sindaci, i governatori, le associazioni, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, col diretti, Confagricoltura, i sindacati, le associazioni di volontariato. Stamattina ho salutato gli amici di Avis Milano e ringrazio le donatrici e i donatori di sangue. Mi auguro che lì dall'altra parte ci siano tante donatrici e donatori di sangue. Vediamo se riesco ad arrivarci. Matteo, quando vieni in Puglia, presto. Saluto la seconda C. Saluti da Milano Maciacchini, saluto Toni, saluto Laura, saluto Pianopoli in provincia di Catanzaro. Domenica e lunedì si vota. State in Lombardia e nel Lazio? Chi di voi vive in Lombardia e nel Lazio? Adesso leggo. No, non riesco a fare una diretta insieme, quindi, amica mia, aspetta, porta pazienza, lo faremo. Quanti siamo in questo momento? Bella Peppa, quasi 3.000. Domenica e lunedì si vota in Lombardia e nel Lazio. Non ve lo raccontano le grandi televisioni, ma se tu hai 18 anni, 19, 20, 21, 22, eccetera, e stai a Milano o a Roma, a Latina o a Brescia, a Bergamo o a Frosinone, a Comu, a Viterbo, domenica. Puoi votare? Mi spingo oltre. Domenica dovresti votare. Non dico devi. Devi, nessuno deve. Siete donne e uomini liberi. Però Lombardia e Lazio, domenica e lunedì, scelgono i nuovi governatori e i nuovi consiglieri regionali. Il mio invito è scegliere la Lega come in Lombardia, la dove da 30 anni si governa bene e insieme col centrodestra, quindi basta mettere una X sul simbolo della Lega domenica e lunedì. Nel Lazio, amici di Roma, dai, ma vi pare normale vivere in una città straordinaria come Roma, con rifiuti ovunque, con autobus che non funzionano, con liste d'attesa e situazioni nei pronto soccorso e negli ospedali indecenti, vergognosi per un paese civile, per la capitale nel 2023. Quindi se tu stai a Roma, stai a Torbella Monaca, a Corviale, a Garbatella, a Torpignattara, ma anche a Ladispoli, a Cerveteri, a Velletri, nella splendida terra del Lazio e da dieci anni sei mal governato dalla sinistra, per la prima volta puoi scegliere la Lega, domenica e lunedì e chi non vota poi non si lamenti se non cambiano le cose, chi non vota poi non si lamenti se la sanità non funziona, se i rifiuti sono in mezzo alla strada, se il trasporto pubblico non funziona, io non prometto miracoli, però laddove governa la Lega, la Lombardia ne è un esempio, la sanità è un'eccellenza a livello mondiale, i trasporti con tutti i problemi del momento funzionano, i rifiuti non sono in mezzo a una strada ma diventano energia nei termologizzatori e le case popolari sono consegnate laddove è possibile agli italiani, questo è. Quindi domenica e lunedì si vota nel Lazio e in Lombardia. Intanto mi arrivano alcuni messaggi che adesso perché io vorrei salutare e ringraziare. Leggo qua Itzmatti, cosa ne pensi di Sanremo? No, non fatemi parlare di Sanremo, io adoro la musica, adoro la musica italiana, adoro Vasco Rossi, adoro Max Pezzali, adoro Zucchero, di Sanremo che non sto seguendo ma non per cattiveria perché torno alla una di notte dal lavoro la sera e qui non riesco a vedere il festival di Sanremo, però mi piace Giorgia che ha una voce straordinaria, mi piace Ultimo che è un bravissimo cantautore, la canzone di Marco Mengoni l'ho sentita in radio, tanta roba, Gianluca Grignani, mica male, Brianzolo, doc e chi ha la mia età, destinazione, paradiso è qualcosa che ancora oggi rimane dell'orecchio però non chiedetemi di commentare gli interventi, i monologhi, le sparate, posso solo dire che quello che è salito sul palco è un bravissimo artista, però se sali sul palco e sfasci il palco e prendi a calci dei fiori, diciamo che io sono abituato ad altro, però ripeto gli italiani hanno tali e tanti problemi, tali e tante urgenze che commentare Sanremo non mi appassiona. Cosa pensi di Macron? Ma Macron mi sembra in questo momento un po' arrogante, come se in Europa decida tutto lui con i tedeschi, non sono più questi tempi, bisogna unirsi, bisogna decidere insieme, bisogna risolvere insieme i problemi, ad esempio quello dell'immigrazione e del controllo dei confini. Saluto Dami, saluto Andrea, saluto Giacomo da Vitorchiano in provincia di Viterbo dove ero a cena settimana scorsa, guardo un po' giù perché mi arrivano i messaggi un po' più grossi. Mi saluti, mi chiamo Chanel, ciao Chanel, ciao a Diego Bettin, ringrazio Luca, sono d'accordo con te, saluti a te a Fedez, ringrazio per me e ringrazio per Fedez, Rosa Chemical, non so chi sia, però sarà una cosa importante, viva l'Italia, solo questo conta per noi italiani, Matteo bravo a ricordare le foibe. Ecco, ragazze e ragazzi, magari qua ci saranno anche ragazze e ragazze di 12, 13, 14, 15 anni che se dico foibe, visto che la scuola non sempre insegna quello che dovrebbe, non sanno di che cosa si parli, si parla di una strage di italiani negli anni 40 e negli anni 50, migliaia e migliaia di morti uccisi dai comunisti slavi solo perché italiani e non comunisti e centinaia di migliaia di italiani scappati dalle loro case che le regioni rosse una volta non volevano accogliere perché erano italiani indesiderati da altri italiani. Adesso gli stessi sinistri che vorrebbero accogliere clandestini da ogni parte del mondo solo qualche decennio fa non volevano accogliere gli esuli da Istria, da Fiume, dalla Dalmazia perché erano italiani indesiderati. Quindi ragazzi vi consiglio di andare su Google, finite la diretta se non ve ne hanno parlato i prof a scuola, a leggere la storia dei martiri delle foibe che è una storia nostra, nostra carne, nostro sangue, nostra testa, nostro passato, nostro presente e nostro futuro e chissà se stasera sul palco di Sanremo qualcuno si ricorderà di queste migliaia di ragazze e ragazze morti anzitempo con il torto di essere italiani e di non essere comunisti. Fortunatamente sono passati gli estremismi, comunismi, fascismi, nazismi, siamo e saremo in democrazia. Ovviamente chi sceglie la Lega sceglie l'orgoglio. Quindi se l'Europa ci propone di mettere fuori legge le auto, di spendere decine di migliaia di euro per sistemare le case o di mangiare la farina di grilli, di insetti e di cavallette non è la mia Europa. Orgogliosamente italiani, protagonisti in un'Europa che si occupa di lavoro, di difesa, di salute e di sicurezza ma non rompe le scatole a chi non ha 20.000 euro per sistemare casa o a chi non ha 50.000 euro per comprarsi l'auto elettrica nuova. Un saluto a Cadì, un saluto a Cristian, un saluto a Nicu da Cattolica, un saluto a Nicola Grande. Siamo sempre di più in questo venerdì pomeriggio non preavvisati. Un saluto agli amici di Siena che hanno avuto qualche scossa di terremoto in bocca al lupo a ragazze e a ragazzi di Siena. Un saluto a Leonardo che mi dice viva l'Italia, un saluto a Michaela, anche io sono italiana. Sì, quando io dico viva l'Italia per me è Italia anche chi è arrivato da lontano e ragiona come noi. Studia come noi, lavora come noi, porta rispetto, porta aiuto, porta futuro. Quindi puoi essere nato bianco, nero, giallo, rosso, verde. Puoi essere nato a Milano, a Roma, a Palermo, in Marocco, in Albania, in Tunisia, in Russia, in Sud America, in Cina. Se sei qua, se sei una persona per bene, se porti rispetto, se vuoi crescere in una comunità solidale, accogliente, l'Italia è casa tua. Ecco, l'unica roba che non capisco è chi dice che gli italiani sono razzisti. No. Veramente qualcuno pensa che gli italiani siano un popolo razzista, egoista, arrogante, violento. Ce n'è qualcuno, ce n'è qualcuno che è rimasto fermo, però io penso che più accoglienti, più generosi, più solidali, più sorridenti, più genuini e spontanei degli italiani è difficile trovarne. Se qualcuno arriva qua, fa fortuna qua e arriva col ditino a dire voi italiani, razzisti, vergognati, e basta. E basta. Lavoriamo insieme, costruiamo insieme, risolviamo insieme. Mi saluti per favore, mi chiamo Olivia, saluto Raya, saluto Il Diavolino, saluto Celeste, saluto Beverly, Keida, Nermin, saluto la prima F, saluto la seconda G. Vivo in Italia dal 2017, ancora non ho la cittadinanza. In bocca al lupo e spero che tu ce l'abbia il prima possibile. Matteo, che è successo al Milan? Bella domanda. Stasera c'è Milan-Torino. Io stasera sono a Brescia, peraltro. Matteo, dove sei nei prossimi giorni? Io alle 5, quindi fra non molto sarò a Milano, in corso Buenos Aires, a parlare di Lega. Poi alle 6 e mezza sarò a Bergamo e alle 9 sarò a Brescia. Quindi Milano, Bergamo, Brescia. Si vota. Domenica voto Lega, voto Lega da Milano. Sono di Roma e ti voto per la prima volta. Grazie. Quanti di voi voteranno Lega? Vediamo se riesco a leggere qualche nome. So che sono orribili questi occhialetti, però fatemi guardare un attimo. Che problema c'è? Dai, 3.700 persone. Sono di Latina e ti voto. Non so se riesco a votare o no. Dai ragazzi, si vota tutta la domenica e anche lunedì dalle sette alle quindici. Ti adoro, ti seguo da Londra. Bravo Matteo, non mollare. Ottimo ministro, lavoro in ferrovie. Grazie. Matteo, saluti dalla terza FA. A proposito, saluto il ministro dell'istruzione del merito, Beppe Valditara, perché finalmente ha riportato in classe un po' di regole, un po' di rispetto. Anche in questi giorni ci sono licee e scuole superiori che stanno facendo occupazioni, autogestioni. Ragazzi, le abbiamo fatte tutte. Abbiamo fatto tutto, scioperi, picchetti, manifestazioni, autogestioni e occupazioni. Non fate casino, non fate danni. È quello che svuota l'estintore, è quello che aggredisce la ragazza, è quello che fa le scritte con lo spray sui muri, è quello che sfascia la lavagna, è quello che entra in aula professori. Usate la testa. Ci sta di fare qualche giorno di discussione, trattino di vacanza, perché sappiamo che autogestione e occupazione fanno rima con vacanza. Non fate danni su quello che è un patrimonio pubblico, altrimenti giustamente pagano mamma e papà. Se fai danni, se fai casino, se sfasci la classe, se imbratti i muri, se rovini la palestra, devono pagare mamma e papà, perché la prof va rispettata, perché il prof va rispettato, mica come quei cretini. Ecco, posso dire cretini dell'itis di Rovigo che sono entrati in classe con la pistola ad aria compressa, già se uno entra in classe con la pistola ad aria compressa ha dei problemi, hanno sparato a pallini alla professoressa, si sono filmati e l'hanno messa sui social. Io avrei espulso, ma non per tre giorni, fino a fine anno. Un po' di educazione, un po' di rispetto. Si va a scuola per studiare, per fare amicizia, c'è l'intervallo per fare comunella e poi si trova la ragazza, si trova al ragazzo, però l'insegnante che è dietro la cattedra non è lì per hobby, è il suo lavoro, è il suo mestiere, è la sua passione, è la sua professione, quindi siete in migliaia. Fra questi 841.600 sulla pagina TikTok del Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini sono tante ragazze e ragazzi. Io vi incontro in giro per l'Italia, quindi ragazzi usiamo la testa. Poi sono stato giovane anch'io, ci si diverte, ogni tanto si esagera, ogni tanto si urla, ogni tanto si può far casino, per carità di Dio, però con la testa, sempre con un limite, a scuola, allo stadio, in strada, in metropolitana, sempre con un limite, altrimenti chi sbaglia paga. Saluto Gabriele, saluto Rosso Arancio che mi chiede ti piace Noemi? Sì, mi piace Noemi come cantante assolutamente sì. Saluto Miguel, saluto Chiara, saluto Cristian, saluto Edo Marcuz e Liloara Josub, spero di aver letto giusto. Saluto Clara Crisci, Matteo ti voto da Milano. Salvini dov'è che si vota domenica? Domenica e lunedì si vota in Lombardia e nel Lazio. Per la regione, governatori e consiglieri regionali, quindi non si vota in Sicilia, non si vota in Veneto, non si vota in Puglia e non si vota in Piemonte. Si vota in tutta la Lombardia 10 milioni e in tutto il Lazio 5 milioni. Quindi tu di Roma, se non sei contento di com'è trattata e governata la tua città, scegli la Lega, scegli, non lasciare che siano gli altri e scegli il tuo posto, tu scegli il cambiamento a Roma. Tu di Brescia, tu di Milano, tu di Monza, se ritieni che la Lombardia sia un modello. Io ho visitato gli spazi qua a Milano dove cresceranno il Politecnico, la Statale, la Cattolica, la Bocconi, tanta roba, Milano diventerà tanta roba, lavoro, giovani, start-up, innovazione, occasioni, università, nuove scuole, ostelli per studenti, ospedali, tanta roba. Quindi squadra che vince non si cambia, questo non vale per il Milan, perché squadra che vince, ahimè, si sta auto lesionando. Nel Lazio invece c'è tanto da cambiare. Salvini come faccio a votare? Documento e tessera elettorale. Ce l'avete la tessera elettorale. Controllate perché io non mi ricordavo dove l'avevo messa, l'avevo messa sullo scaffale in anticamera. Documento, tessera elettorale e un minuto. C'è solo una scheda, non c'è rischio di far casino, basta cercare il simbolo della Lega a Milano, a Roma, a Brescia e a Latina, domenica e lundi. E si cambia. Poi ci becchiamo qua online per San Valentino a festeggiare gli innamorati. Viva l'amore, viva ragazze, viva ragazzi, viva la musica italiana, viva la musica italiana e io spero che Sanremo torni in futuro il festival della musica, della musica, della bellezza, della cultura italiana, non della polemica, dell'accusa, dell'arroganza, del decadimento del gusto. Poi la musica è bella tutta, musica leggera, musica classica, musica rock, ogni tipo di musica. Che musica ascolti Matteo, lo dicevo, a me piacciono i cantautori italiani e quindi da Vasco a De Gregori, a De Andrè, a Battisti, a Vecchioni, a Guccini e in questo festival ci sono dei cantanti assolutamente di eccellenza. Occhialino per guardare l'ora che si è fatta. 123.000 mi piace, 124.000 mi piace per questa rapida carrellata che ripeto parte sul progetto di legge sul maltrattamento degli animali che molti di voi ci avevano chiesto. Saluto Listino, saluto Kebdi, Salvini ti amo e sono pakistano. Benvenuto ragazzo, benvenuta ragazza, non so se Kebdi sia un ragazzo o una ragazza. L'Italia è il paese delle opportunità, è il paese dell'accoglienza, è il paese della generosità. Diamo rispetto, chiediamo rispetto. Semplicemente questo. Spalanchiamo le porte di casa nostra, delle nostre scuole, delle nostre aziende, del nostro cuore, però chiediamo semplicemente rispetto. E' questo il bello della cultura italiana. Saluto Gaia, saluto Ele, saluto Amani, saluto Mela, saluto Noè, saluto tutti voi. Adesso vado, vado a incontrare i cittadini di Milano in corso Buenos Aires, alle 6 e mezza incontrerò i cittadini di Bergamo in centro, alle 9 i cittadini di Brescia alla Camera di Commercio, oltre 4.000 collegati, non solo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Ci rivediamo. E avete ragione. Matteo, devi farle più spesso queste live. Ragazzi, faccio il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quindi diciamo che le giornate sono lunghe. Mi occupo di viadotti, dell'A14, sulla Adriatica, con dei cantieri che ahimè ogni tanto mietono delle vittime dei morti, che stiamo cercando di ridurre morti anche sul lavoro, al porto di Trieste, al porto di Civitavecchia. E poi c'è la TAV, la Torino-Lione, c'è il tunnel del Brennero, c'è l'alta velocità in Sicilia, c'è la Statale 106 in Calabria, c'è la Roma Latina che finalmente abbiamo commissariato e diventerà realtà, c'è la strada tirrenica che attraversa la Toscana, ci sono i ponti sul Po e la Pedemontana-Lombarda. E' tanta roba fare il ministro delle infrastrutture, dei trasporti, dei lavori pubblici, della casa. Uno dei miei obiettivi sarà dar vita a un nuovo piano casa con la costruzione di migliaia di case a prezzi accessibili per ragazze e ragazzi, lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati che non possono permettersi 1000-1500 euro al mese d'affitto per vivere, lavorare o studiare a Milano e a Roma. Siamo qua solo da tre mesi, vogliamo stare qua per cinque anni col centrodestra e con la Lega, la piccola, grande, testarda, coerente, coraggiosa Lega. Quelle battaglie che facciamo in Europa, a proposito oggi hanno arrestato, io non godo mai delle disgrazie altruie. Quando viene arrestato qualcuno per me non è mai una buona notizia, però quell'euro parlamentare belga di sinistra che ai tempi mi insultò, mi attaccò dicendo che non facevo niente, oggi l'hanno arrestato perché pare, spero che non sia vero, perché conto sempre sull'innocenza del prossimo, pare che prendesse soldi dai paesi islamici. Quindi il tempo è galantuomo ragazzi, male non fare, paura non avere, il tempo è galantuomo, lavoro, fatica, studio, impegno, passione. Quando si vince si festeggia e si torna a lavorare, quando si perde e si cade ci si rialza in attesa di future vittorie. Grazie perché per me sarà stato più di un mese, forse due mesi che non riuscivo a tornare in diretta, vedrò di farlo più spesso. Da settimana prossima per raccontarvi come impegno il tempo che voi mi pagate, quali cantieri stiamo sbloccando, quale ferrovie stiamo sistemando. Sono intervenuto a Bari questa mattina dove consegniamo dei nuovi treni per le ferrovie fra Puglia e Basilicata. Interverrò oggi pomeriggio in Sardegna sulla continuità territoriale, su traghetti aerei che uniscano la Sardegna al resto del continente. Sono stato stamattina a Milano, allo scalo di Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico per le Olimpiadi Invernali 2026 e poi arriveranno 1700 posti letto per studenti. Tanta roba, prezzi controllati, però cercherò il più spesso possibile di parlare con voi. Matteo ti saluto da Reggio Calabria. Grazie. Matteo, domenica ti voto a Milano. Grazie. Dai e Mattei, forza Roma e forza Lega. Non parlo di Zagnolo, non parlo di Totti, non parlo di Ebraimovic, non parlo del derby, men che meno. Stasera c'è Milan-Torino. Speriamo che il buon Dio ce la mandi buona. Grazie ragazzi. È stato un piacere e prometto tornerò, torneremo più spesso, 163 mila volte. Grazie, vi abbraccio, vi saluto e vi voglio bene.